Volevo solo dire ai ragazzi qui presenti e a quelli che ci ascoltano, guardate voi spesso mi sento dire ma noi viviamo oggi nell'era dell'intelligenza artificiale, viviamo nell'era delle innovazioni, loro sono nati col sesto dito, come dico io, col mouse incorporato, non hanno dovuto fare tutta la fatica che abbiamo fatto noi di una certa età per adattarci, però dovete sapere, come ci sta dimostrando anche Meluzzi, che il cervello è da milioni di anni che funziona in maniera analogica e funzionerà in maniera analogica per altri milioni di anni, non pensate a queste sirene che vi dicono che noi diventeremo digitali, perché digitali sono le applicazioni, ma analogico rimane il cervello, se analogico rimane il cervello, come ha detto anche Meluzzi, per esempio analizzare una notizia o un argomento secondo una logica, ma è una logica aristotelica, stiamo parlando di logiche che risalgono a migliaia di anni fa, non caschiamo nell'errore di credere che tutto ciò che è stato pensato e studiato anticamente, ormai non serva più, anzi serve ancora di più per capire il mondo che abbiamo intorno, questo è fondamentale, quindi stiamo attenti, digitali sono le applicazioni, analogico rimane il nostro cervello e questo è inutile, se no ci andiamo a impiantare come sostiene Elon Musk e d'altre... A rari non è d'accordo... A rari questi qui ci sono i profeti di questo transumanesimo e questa nuova teoria che viene dalla serie Convali che dicono che tanto noi fra un po' ci impianteremo dei cibi nel cervello eccetera eccetera, ma andatevi a vedere qualche fiction che è uscita qualche anno fa sul Black Mirror per esempio, su Netflix, dove ci raccontano tutti gli orrori ai quali ci può portare un eccesso di spinta verso questo transumanesimo, questo è un altro errore, ma voglio dire il professor Faggin che è un italiano, è un fisico di fama mondiale, è quello che ha inventato un microchip, quindi posso dire che colui che ha inventato l'informatica moderna, lui dice un computer non potrà mai diventare cosciente perché un computer non può immaginare e non può pensare, può riconoscere il profumo di una rosa, ma non può sapere se quel profumo è quello di una rosa o è quello di una donna che è addosso il profumo della rosa e quindi stiamo attenti, adesso uscirà con un prossimo libro dove parlerà della coscienza a livello quantistico, cosa che io faccio fatica ad afferrare, che sarà molto interessante, però lui dice stiamo attenti a queste false promesse che l'intelligenza artificiale, un altro famosissimo ricercatore francese disse una volta attenzione che l'intelligenza artificiale non è intelligente, quindi non è capace di intuire, non è capace di inventare, non è capace di immaginare, quindi cerchiamo di distinguere bene tra quello che il nostro cervello è capace di fare e che noi usiamo solo al 3-5% delle sue possibilità pensate e invece a quelle che sono le applicazioni digitali. La cosa incredibile di quello che accade in diretta qui a Radio Radio è proprio questa, adesso poco fa il professor Alberto Contri ha anticipato già quello che è l'argomento, che avrebbe dovuto essere l'argomento di oggi, ma approfittando della visita di questi ragazzi abbiamo voluto parlare un po' più in generale di quello che è la comunicazione, ma ovviamente noi tre siamo tutti e tre impegnati la prossima settimana a parlare proprio di questo, dell'intelligenza artificiale, ovviamente infarcendo da un po' di cronaca che è necessariamente ci sarà, ma la prossima settimana io vorrei proprio parlare insieme a voi e spero che molti di voi ci possiate ascoltare o in diretta o magari registrati dopo, on demand come si dice oggi, anche sull'on demand ci avrei molto da dire, però la più grande, noi ve lo diciamo, ricordatevi la data di oggi, la più grande minaccia per voi giovani è l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, tutti i grandi potenti della terra oggi stanno finanziando progetti di intelligenza artificiale perché si vorrà arrivare all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale priva noi della capacità di decidere, di discernere e di cambiare anche il nostro futuro, perché lo deciderà una macchina, ma non è che quella macchina lo decide lei perché la macchina può esserci magari superiore, la macchina è stata programmata da qualcuno, quindi tutta l'umanità potrebbe essere decisa da pochissime persone che programmano le intelligenze artificiali del futuro, ecco perché c'è una valanga di soldi su questo, si investe moltissimo, l'altro ieri vedevo un servizio del nostro amico Sigfrido Ranucci, con il quale parleremo proprio di questo su Report, su Re3, proprio sull'intelligenza artificiale, su gruppi universitari anche italiani che sono stati finanziati per una gara Indianapolis di vetture senza pilota, che è una delle cose più oscene che possono essere, vi parla uno che fa sport automobilistico, pensare che ci sia una competizione senza le persone, io ragazzi, ma attenzione all'intelligenza artificiale, il vostro nemico è il nemico del vostro futuro, Vanni? Io come riflessione da condividere con Alessandro, non so se lo sa, ma adesso stanno creando dei programmi che dovrebbero permettere alle persone di interagire con il divino in digitale, cioè inizia a esserci intelligenza artificiale divina alla quale tu puoi rapportarti come si parlerebbe col creatore dicendo i tuoi problemi e lui ti risponde in qualche maniera, quindi... Questo è Lucifero, questo si chiama Lucifero, Sanna. Sì è vero, Alberto? C'è una discriminante, per capire come sta la faccenda è, l'intelligenza artificiale è al servizio dell'uomo o deve sostituire l'uomo? Allora, un esoscheletro che serve per tenere in piedi un malato di slagli, permette di camminare, è un miracolo di informatica, cibernetica, robotica, una roba fantastica, ma questo va benissimo, ma non un robot che sostituisce noi, e questo è il vero problema, è al servizio dell'uomo o non è al servizio dell'uomo? Facciamoci questa domanda, anche la ricerca si deve fare questa domanda, però ripeto, andatevi a guardare Black Mirror, scoprirete quando oggi vedete questi cani robot che a Shanghai vanno in giro per la strada con queste zampette, sono esattamente quelli che in una fiction del 2016 a Black Mirror faceva vedere che sono impazziti e a un certo punto andavano a cercare di ammazzare tutti gli esseri umani e li riconoscevano dal segnale del cellulare, ma pensa un po', sto parlando di sei anni fa, quindi vedete come anche la capacità predittiva della fantascienza, però era per metterci in realtà in guardia dagli errori di questo sogno assurdo dell'uomo che vuol diventare Dio, che poi è solo uno che vuol diventare Dio e controllare tutti gli altri. Per prepararci, ha ragione lui, ha ragione, non per metterci in guardia. Ci ha messo in guardia, in realtà ci aveva messo in guardia Orwell e Benson, ecco vi consiglio tre libri, tutte le volte lo ripeto, 1984 di Orwell, Il mondo nuovo, di Huxley e Il padrone del mondo di George Benson. Quando avete letto questi tre capirete che all'inizio del Novecento ci sono quelli che ben conoscendo tra l'altro l'ambiente culturale in cui nasceva tutto questo pensiero, che era l'ambiente massonico, di cui ci può dire molto di più Alessandro. E ti aggiungo i tre racconti dell'anticristo di Solarioth. Esattamente, ci hanno mandato dei segnali, prima ancora che fare un'opera letteraria, hanno mandato dei segnali e mi dice guardate che vi state impiccando con le vostre mani. Io quando vivo e leggo il giornale oggi, mi sembra di leggere il 1984, quando leggo che appunto la stampa, ne parlavamo prima, aveva cancellato questo articolo dove si parlava dei nazisti in Ucraina, articolo del 2014, dettagliatissimo, è stato cancellato dagli archivi, era esattamente quello che faceva il protagonista di 1984 che di Mestiere cancellava dagli archivi le notizie del passato che erano scomode per il presente. E passa tramite la neolingua, il rifacimento della lingua, il cambiamento delle cose, tutto quello che stiamo vedendo.